buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce prima di arrivare al succo del video di oggi che sarà molto breve ma intenso vi dico semplicemente che se vi piace quello che faccio pensate che il mio canale sia un esempio per un uomo e per un mondo migliore potete supportarmi mensilmente o abbonandovi al mio canale tasto abbonati sotto tutti i miei video oppure aderendo alla mia pagina www.patrio.com a partire da un euro al mese oppure due oppure cinque oppure dieci oppure venti niente oggi sono qui per dirvi semplicemente questo molto meglio essere finti magri piuttosto che essere veri stronzi meglio essere un finto magro che un vero stronzo cosa sono i finti magri qualcuno si è inventato anche questa categoria praticamente sono quelle persone tipo come me no se guardate io sono apparentemente magro no guardate ok in realtà perché finto magro qualcuno etichetta un fisico come il mio in questo modo perché poi non ho nella mia corporatura molta massa magra è comunque nella insomma presente della massa grassa in me allora sono un finto magro perché magari vestito sembro magro ma poi se mi si vede nudo guardate il risultato pancetta ok perché per qualche fuori di testa avere della massa grassa non essere tonici ok non avere solamente pelle ossa e muscoli ma avere anche della ciccia significa significa avere un estetica avere una così corporatura che non è un granché da cambiare devi cambiare io sarò pure un finto magro ma sinceramente meglio essere finti magri che veri stronzi è questa questa è la la regola di vita dovreste mettere al centro del vostro giro questo slogan meglio essere finti magri che veri stronzi vi dicono ma tu sei un finto magro tu sei una finta magro si forse è vero che lo sa e diciamo si può discutere di ciò tu invece sei un vero stronzo cioè possiamo si possiamo discutere sul fatto che io sia un finto magro però c'è una certezza salute tu sei uno stronzo vi assicuro che è meglio essere un pochettino dotati di ciccia che essere stronzi ma questo vale addirittura anche allargando la questione direi che è meglio essere sovrappeso che stronzi è meglio essere obesi che stronzi è meglio essere sottopeso di 10 kg che essere stronzi questo non è un elogio a non cercare di guarire se si è affetti da obesità l'obesità comunque è una patologia così come anche essere decisamente sottopeso ci sta lavorare con se stessi per una salute migliore perché comunque la salute è importante per un benessere anche psicologico però se qualcuno è stronzo perché per questo vi vi giudica in maniera distruttiva ve lo fa pesare no si permette di accanirsi contro di voi ma in generale uno è stronzo magari con voi ma con gli altri per gli altri mille motivi beh sinceramente al di là del fisico è assolutamente differente se tu sei uno stronzo sicuramente sei in una condizione più sfavorevole rispetto all'essere obeso ok ma in questo mondo però se tu sei molto obeso oppure sei troppo 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 magro hai più difficoltà a avere il consenso rispetto agli stronzi o le stronze spesso sono elogiate spesso sono ambite e questo cosa significa che voi dovete quindi farvi condizionare questa mentalità del cavolo se dovete se volete ed è una bella cosa guarire dall'obesità o andare verso una direzione di migliore salute dovete farlo ma semplicemente per voi stessi non certo perché c'è qualcuno che si scaglia contro di voi in maniera tra l'altro violenta e paradossale poi a parte appunto le malattie è ridicolo pensare che una persona come me che ripeto certamente non ho un fisico particolarmente tonico non sono muscoloso ma di sicuro non ho un fisico che per quello che è mi comporta o mi comporterà chissà quale malattie non c'è bisogno di essere pompati per essere in salute non è che avere un po di pancetta significa non essere in salute non è che avere le smagnature se sei donna o avere non lo so la cellulite significa non essere in salute di cosa stiamo parlando c'è questo mito della perfezione mito della perfezione spacciata addirittura per salute quando addirittura è una malattia mentale avere l'ossessione della perfezione oltre al fatto che c'è anche un concetto di bello vergognoso che sia come modello un ideale che diventa orrore proprio brutto esteticamente sia maschile che femminile quello che è inteso come un bello molto spesso è proprio una roba per carità non dico ripugnante però insipida alle volte proprio ripugnante se ci aggiungiamo pure la chirurgia estetica il concetto di bellezza arriviamo proprio dei mostri ma anche i fisici questa idea che tu sei bello in salute addirittura se sei tutto piatto non puoi avere un gremito di pancetta le cosce devono essere così se sei donna soprattutto se sei uomo devono essere così ma che cazzo dite non è né bello è ridicolo avere un piatto e stereotipato con ciò di bellezza ma non nemmeno salute e quindi ragazzi va benissimo cercare di agire per essere in buona salute quindi per esempio non essere troppo sedentari va benissimo ma per esempio se tu non sei sedentario non essenzialmente muscoloni tu magari corri ogni giorno un'ora al giorno non hai una vita sedentaria forse ce l'ha di più uno che fa solamente pesi quindi va benissimo la non sedentarietà ma basta lì basta questo pensare che tu devi ambire al miglioramento del corpo a tutti i costi il miglioramento poi te l'hanno detto gli altri che sono perché poi oggi giorno mamma mia vediamo questi questi guru della palestra che ti dicono come devi essere tutti ai devo diventare come lui maschio sempre più grosso le femmine magari non c'è questo mito della della possenza però e la pancia deve essere così e il sedere deve essere così le gambe così ci sono un sacco di donne che hanno l'ossessione di avere le cosce troppo grosse e quando sono normalissime anzi alcune che hanno la paranoia di avere troppe cose ce l'hanno già troppo al massimo magre perché magari naturalmente parlando le avrebbero un po di più hanno già basato la loro intera vita con l'obiettivo di ripicciolire il gruppo ma non gli basta ecco perché poi questo è il mito un mito inarrivabile nella testa chi ha questa ossessione spesso che schiavo di certi cose non gli basta mai né fisicamente non sono mai abbastanza magra non sono mai abbastanza grosso non sono abbastanza bello ma neanche psicologicamente perché nel momento in cui raggiungessi determinati assurdi risultati non sarai felice vi assicuro che se migliorate il vostro corpo con questa mentalità con questo approccio anche con quei risultati non sarete felici al di là del momento in cui ah guarda ce l'ho fatto dopo un giorno siete nella stessa disperazione di prima perché la felicità sta altrove poi certo se è una questione di salute allora può essere anche collegata alla felicità però anche lì non basta non è che basta essere in salute per essere felici e per felici intendo in buon equilibrio con se stessi vabbè dai anche oggi ho detto la mia siccome vedo molte donne che giustamente mi piacciono molto quelle persone che quelle donne soprattutto che sui social su instagram a parte quelli che magari lo fanno puramente così per pubblicità eccetera però c'è anche chiamato da da dei principi veri scusate il rumore sottofondo c'è un cellulare che non giochino fanno vedere magari il proprio corpo con la cellulite con le smagliature oppure al naturale senza trucco dite guardate questa io sono così al naturale non mi devo vergognare non devo avere l'ossessione di essere sempre truccata perché io per me non c'è nulla di male nel truccarsi neanche nel vestirti magari vestiti in una certa maniera nel fare una foto in un certo modo ma non deve essere una droga che altrimenti senza quel trucco ti senti un fallito o una fallita allora farsi vedere nel naturale questo è importante mi piaccio così lo voglio fare anche io perché i maschi lo fanno meno guardate ma ragazzi attenzione per una questione di salute inizio ad avere non sono più 20 anni inizio ad avere 34 ho in mente in questo prossimo futuro di fare un po' più di attività fisica un po' più di movimento di corse qualche pesetto in casa proprio perché magari nella vecchiaia se si è troppo sedentari si rischia poi di avere delle sofferenze legate alle conseguenze di una sedentarietà però in un'ottica molto tranquilla puramente salutistica senza esagerazione comunque guardate non ho i braccioni normale spalle non larghissime ho il maschio delle spalle larghe io mi piace quando mi guardo allo specchio il mio viso mi piace tantissimo anche il mio corpo io non dico mamma mia che fisico vorrei avere quello con quello là mi piace poi certo mi viene da dirmi non ho un fisico particolarmente lo posso dire tonico non sono un bronzo di riace non sono una statua greca mi piaccio mi riconosco e mi piaccio ciò mi caratterizza punto questo tra l'altro adesso va di moda pure togliersi tutti i peli nelle nacelle anche se si è uomini a parte che anche una donna è libera anche di avere i peli nelle nacelle se vuole dovrebbe essere libera massima libertà ovviamente bisogna essere estremisti dall'altro lato ci sono alcune femministe naziste esagerate che dicono no non devi toglierti i peli donna perché significa che tu sei schiava di no non esiste una regola se le vuoi togliere te li togli vuoi togliere sei mesi all'anno negli altri sei mesi te li tieni libertà in questo senso ultimamente anche i maschi hanno insomma stanno un po' anche loro diventando schiavi di certe logiche quindi per forza i peli vanno tolto io a volte li tolgo assolutamente anch'io e a volte li tengo quello che mi va insomma non ho i pettoraloni guardate che pettoraloni che ho mamma mia ma non ti vergogni a mostrarti tu che sei uomo puoi senti i pettoraloni non pensi che poi ma cosa penso sono un essere umano non sono una pompa da gonfiare sempre più ma non ho nulla contro chi attenzione è muscoloso più di me assolutamente però cerchiamo di dare il giusto peso alle cose pancetta cercate ragazzi cercate ragazzi di mettere al centro della propria vita la vostra vita altro va benissimo interessarsi anche alle proprie salute non essere sedentari sono iniziati aspirare ad essere un pochettino tonici per una questione di salute però diamo il giusto peso alle cose ragazzi eh ma Enrico se tu andassi in palestra hai un bel viso qualcuno me l'ha detto andassi in palestra braccia più grosso spalla più grosso sai quante ragazzi ti verrebbero dire molte di più magari te ne vengono già adesso un po' con un fisico chissà quanti triplicherebbero ma chi se ne è che ti triplicare ma veramente io dovrei dire oh sì nel momento così avrò più mamma mia ma anche quelli che dicono no non lo faccio lo faccio per me stesso ma per me stesso cazzo un minimo di tonicità potrebbe interessarmi ma perché dover esagerare mamma mia poi certo se qualcuno ce l'ha come passione perché proprio lo affasci nel mondo del fitness anche del bodybuilding non ho nulla contro la sua passione però molti non ce l'hanno per passione ce l'hanno per venire accettare dagli altri quindi insomma il discorso è un po' diverso poi ahimè quando la passione diventa per diventare sempre più grosso mi devo anche dopare compromettendo addirittura la mia salute allora insomma sai che passione la passione paragonabile è quella dei cocainomini che si fanno di cocaina personalmente massimo rispetto però insomma non è proprio un mondo da elogiare no quello della droga è idem quello del doping all'interno delle palestre insomma c'è una tristezza assoluta altro che li salute no siamo proprio apoteosi della della malattia e dell'autodistruggersi e niente ho messo un po' di carne al fuoco spero ti hai fatto riflettere un abbraccio commentate condividete ciao se ti piace quello che faccio e vuoi che continui per sempre a fare video puoi supportarmi abbonandoti al mio canale cliccando semplicemente sul tasto abbonati che trovi sotto tutti i miei video scegliendo il tipo di abbonamento che preferisci oppure in alternativa puoi aderire alla mia pagina patreon per farlo è semplicissimo apri la mia pagina patreon e scegli se donarmi 1, 2, 5, 10 o 20 euro al mese il gruppo whatsapp dei super uomini e delle super donne ed altri contenuti esclusivi ti aspettano puoi aderire fin da subito cliccando sul tasto arancione che comparirà fra pochi istanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti